vai e che se iniziano la partita vediamo un po pari siamo pronti ok come facciamo si va che dici e poi per la salita alla sua destra ma mai ho preso il mondo qua ok sto già scappando maggiore perchè si è abelenato perchè sono scemo ma è il posto di mettere wow maggiore ho trovato aspetto di fuoco anch'io aspetto di fuoco due mele chiedi ti do una mela andiamo lì andiamo lì aspetta voglio mettermi la affilatezza nel primo slot e ascia nel secondo così lo incendi e poi lo uggido eccolo guarda girati e mangia la mela arrivano due aspetta maggiore o grande maggiore e se la pozzeria di velocità hai distruggia questa grande come abbandonato quella sentiero e sul t direi che dici che vogliono andare da evitare nardotter ma non sono i tisti stanno città è la gesta di dipuntare la zappa e noi da dietro optopopa ma grande Hai trovato qualcosa per me Tieni A me mi serve qualche corazza Ce l'hai Si ti è Ma affilatezza 3 Grande Ti ho dato tutto il set Non so quale ti serve Eh no Sto opposto Sto oppostissimo Hai pantaloncini Per caso Di diamante Si io Vai Ma lo vuoi? Ah no no Questi qua sono quelli che hai dato a me Io sono quelli in ferro Capito adesso Ah ok Va beh ok 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 Comunque mi hai dato affilatezza 3 Mamma mia Vai vai Andiamo che ci abbiamo ancora la vela d'oro E tu mi volevi abbelenare tu Tu mi volevi forse abbelenare Vai macio Tu lo punzecchi così E io lo punzecchio con quest'ascia Tanto mo ci morirà E vai giù amico mio E giù è mordo Ok Abbiamo l'acqua Eh l'acqua no Soprattutto mandarla a prendere i drop Ma ho trovato una corazza in diamante Protezione 4 E' incredibile Io c'ho protezione 3 Sui pantaloni che protezione hai? Io ho protezione 3 Allora apposta Se non ti davo questi qua Protezione 3 Ma dove? Sui pantaloni? Sì sì Ah no Sui pantaloni c'ho protezione 4 Ah allora grande E non quella di diamante O qui cosa facciamo? No vabbè ma non penso che sia andare via Ah sì 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 Ok Vorrei buttarmi sui liane però non ha senso No non ti conviene Eh Ok vai c'è uno da qua Oh C'è qualcuno? Pazione di instant health E' buona Ok Stiamo in 8 Chissà dove sono scappati Vabbè Aspetta di fuoco 2 Sulla spada Questa è piena Questa è piena Non ci ho preso niente Grande La ti prendi Ah ce n'è anche uno per te lo vuoi? No no Vabbè Vieni maggio Andiamogli a cercare se Ho visto dove sono salito Ok Perché qua Non ci siamo ancora passati Però io penso che sono andati Da queste parti Poi c'è anche il deserto Giù Probabile che siano scesi Io mangio Ok però non ti vedo Ah ti sei fermato Ok andiamo Bambara 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 Pensi che sia andato di qua Tu che dici? Ma si No qui era dove eravamo prima Andiamo di qua E vediamo se riusciamo a prendere il drop di quello che abbiamo buttato giù Se ci sono Oh guarda che bella creatura E' bello Ah ripeto una cassa di lontananza dai Eh ti ti ricordi dove c'è morto? No Vada a prendere un attimo sta cassa Vediamo un po' Se vuota c'è passato qualcuno Eh no Però cose schifose C'è un po' 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 Che vogliamo fare? Eh non so Non li vedo Sono gigantesca stiamo Eh si Ritorniamo allo spawn Si si risaliamo in mezzo Perché poi dovrebbero Riempirsi di nuovo le ceste allo spawn E' vero Fa pochissimo pure Vabbè no 4 minuti Verranno tutti lì Verranno Ok Dai camperiamocela qui Dovrebbe un hardcore Infatti eh Vieni qui Shiftiamoci qui Così se viene qualcuno Non si vede Ah io Hai un po' di cibo Eh no Noo Perché ho meno 5 cosciette No vabbè Latte però Latte anche No 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 Per le pozioni Ok Chissà dove sono Quindi mi conviene sempre Aspetto di fuoco nel primo slot Il secondo slot Affilatezza 4 Io ci ho affilatezza 4 Metti un attimo la dnt Mago Vai splode Niente Non li vedo Sì Puntando Tecnescobar Sempre tecnescobar Io sono un attimo Qua sopra Sì Vengo anch'io Non mi piace a me Aspettare Eh lo so Non è che a me Guarda che montagna Come sono costretto A mangiare una mela D'oro No Non la cerchiamo Qualche cassa Tec Andiamo in questo Villaggetto Quale eh Sì 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 Andiamoci dai Attento che qui Non è unito Ma c'è però Dell'acqua Vieni Buttiamoci Ziii Sei minuti Ah però Fra due minuti Dobbiamo tornare Che fra poco C'è il suo figlio Un po' Zoni anche i core Da che ho visto Qualcuno no Oh fra un minuto Torniamo in meglio Sicuro c'è cibo Neanch'io Io me la mangio Tanto comunque c'è possibilità Di trovare Allora andiamo già anch'io E poi Andiamo veloce di là Sì sì Eh ma come torniamo Faccio ci prova Questo salto No 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 vabbè proprio Si cade nell'acqua Alla fine Io oggi bro Eh ma torniamo Eh non ci può Non ci può Non ci serve È vero Eh beh ne muori qua Non puoi rompere Vieni Stai perdendo il cuore No no Tanto ce l'ho Alla d'ora Beh che Tanto stanno andando Tutti lì Muoverci Ecco l'impatto Ce ne sono due Due in team Shift up Ce l'ho visto Ok Andiamoci Eh ma io ho pochi cuori Maggi Ok uno è morto C'è quest'altro Marco Vai vai Allontanati Allontanati Che so full So full Vai vai Non voglio colpirti Quando ci sei Oh no ma questo Ok sono di nuovo Piano Gira lì Vai l'avvelenato Oh si grande L'ho ucciso Grande Vai vediamoci le ceste Devo assolutamente mangiare Me l'adoro Me l'adoro La vuoi la me l'adoro No 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 Tanto ma adesso di genero Guarda quante appozioni C'hanno queste Guarda Guarda quanto cibo Affiliatezza 2 Controliamo Per la spada Lo so Lo so Vai l'ho trovata La mela Ottima Pozione di abilità Me la prendo Vai l'abbiamo fatto il sedere Sì Maledetti Un'altra mela d'oro Arco Arco c'è qui Grande me lo prendo Ma dai Posso queste cose Che non mi servono Dai Siamo attenti Che qui ci beccano Siamo A frecce Questo ho messo benissimo Protezione 4 Ho due protezione 4 Per me io sto apposto Vediamo Ho quattro frecce Però quello è brutto Ah beh Riprendo le ceste Che non avevo preso Vai Ok Quante frecce hai? 11 Più queste Eh anch'io Adesso 16 Eh ok Vediamo un po' Ah 22 Anche io 22 Hai me le d'oro? Una Ah beh Io due Allora A posto Devono Ma qui c'è anche quella di sopra Di nuovo Fa parte No 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 Solo allo spawn Anche questo è spawn Eh beh questa qua di sopra si Ma io intendevo quello lì sul tetto Ah no 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 Grande allora manco Meno male C'erano convinti di batterci È bello Allora adesso è rimasto Video Game Dappe pvp è forte eh Perché? Ah ho visto che ho ucciso un sacco di persone Ah beh ma erano nudi Eh non lo so All'inizio Anche recentemente uno Ah beh loro hanno usato la tattica Eh ce n'è uno ce n'è uno Dove sei tec? Stanno dietro Eccolo E qui e qui e qui e qui E dappe Vai 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 No glielo ho la pozione No sto attaccando con la spada nabba Con quella Aspetto di fuoco Vai l'ho ucciso Grande Grande Veramente Questa spada fa danni Ma con la spada affilatezza a 4 Eh io infatti stavo usando Quell'aspetto di fuoco Eh per questo Io ho il C'ho la spada affilatezza a 3 in diamante Se vuoi O ce l'hai Abbiamo ucciso il trovo Tieni ma cos'è ti serve Cos'è? Affilatezza 3 Ah io ce l'ho a 4 Ti do anche la pozione C'è di velocità Me la mangio? Sì sì io me la so mangiata Adesso proveranno a bene tutti qui sicuro Però tra un minuto c'è il deathmatch Eh mamma mia Vabbè tanto siamo 2 contro 2 Però è stata bella questa azione Perché tipo tu Lo spingi verso di me E io lo spingi verso di te È vero è vero La mia spada ha fatto tanto danno Però mo mi levo questo aspetto di fuoco Non ha senso Mi rimango Eh anch'io sì Perché mi confondo Vabbè Mi rimango affilatezza a 4 Che è buona L'arco me lo prendo Ok io ce l'ho Eh poi lo scozzo è fra noi 2 Eh sì Sperando che ci uccidano No 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 Io prendo 1 Tu prendi 1 Ok Tra un minuto la battaglia finale Ok Voglio un attimo liberare l'inventario Eh anch'io Lo schifo Mi rimango solo una pozione di Di velocità che mi bevo credo Io velocità e lentezza ok Ok Mi lascio anche il secchio di latte lo lascio Che poi c'ho lentezza di un minuto Eh sì Marco perché tu a lui gli avevi lanciato la lentezza Eh eh hai visto E hai preso anche tu capito Eh visto che te Ah beh a sto punto Mangiati le Eh bevi la pozione di rapidità Ho già fatto già fatto Allora si l'hai, si è levato no? Ok No ma io non mi ero beccato da solo Ah no? E come fa la lentezza? No 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 c'ho la pozione di lentezza Ah ok Quella da un minuto Quella non sapeva che fare Vai io mi inizio a mangiare a nero Anch'io Ok vediamo Questi se sono in team o no Io penso di sì Oh ce l'abbiamo qui Oddio siamo tutti qui Marco allora vediamo un po' Vai vai Io prendo il cello Hai già sempre ruato con l'arco verso di te Io Ma lo sto sciottando a questo Marco Non ho neanche il tempo di prendermi Però questo qui mi sta Mi sta per far culo Mi sta Mi sta Eh un secondo Marco A me mi hanno preso un fuoco Preso un fuoco Ok l'ho ucciso Ti posso venire a dare una mano Gli ucciderò L'ho preso Oh tre frecce È forte questa Vai te lo lascio All'angolo All'angolo Sì Va benissimo Combattiamo Aspetta che voglio Aspetta Quella non ha fatto niente contro di me Eh sì sono pronto Aspetta Vai Tre Due 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 Eh lo sapevo Con l'arco Io proprio divengo bond No Sì Grande No 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 lentezza No No tu avevi le cure Maletetto Avevi le cure Maggio Due Eh ma io C'ho Comunque pochi cuori No 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 o no No Quanti cuori avevi Un cuore No L'hai visto La mia spalla era fortissima GG GG Grande 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 Maledetto Dice di buttare la porzione di Rigenerazione Mi ha salvato quello E anche la lentezza vero? Sì sì Andavo lento Sì infatti Di un minuto poi eh È vero GG Bell'episodio Mi è piaciuto Grande È vero Grande Vabbè ragazzi No no sto registrando vai Eh vabbè Direi di finire qui Questo episodio vabbè Esatto 17 minuti E vabbè Alla prossima ragazzi Ciao a tutti Ciao ragazzi Sì ciao